Il liceo musicale è l'indirizzo più giovane del liceo Poerio, è nato infatti nel 2010 e rappresenta una prosecuzione naturale per gli studenti provenienti dalle scuole medie di indirizzo musicale ed è anche una valida opportunità per coloro che seguono corsi di musica privati e danno interessi musicali e che perciò intendono arricchire il proprio bagaglio culturale. Il nostro liceo ha già attivato diversi corsi strumentali tra cui il corso di tromba, crainetto, flauto, oboe, sassofono, pianoforte, chitarra, percussioni, violino, viola, violoncello, corno, trombone, canto e tanti altri ancora. Tra i laboratori di musica d'insieme divisi per famiglie di strumenti, l'ansamblo di ottoni, l'orchestra di fiati, l'orchestra di chitarre e l'orchestra sinfonica Ugo Stame. Le materie specifiche caratterizzanti del liceo musicale si suddividono in materie teorico-pratiche del mattino come teoria, analisi e composizione, storia della musica e tecnologie musicali e materie pratiche pomeridiane, lezioni frontali individuali con lo strumento musicale. Le tecnologie musicali sono una componente essenziale dell'esperienza musicale e dello studio musicale. La materia prevede due ore settimanali durante il mattino. Inoltre durante il nostro corso impareremo a utilizzare le applicazioni digitali attraverso il computer collegato con una scheda audio, per poter scrivere attraverso la videoscrittura le nostre note, quindi i vostri esercizi, ma anche le vostre composizioni e poi attraverso l'uso di audio, workstation audio digitale per la produzione del suono. Gli alunni del liceo musicale acquisiscono le competenze necessarie per accedere a qualsiasi facoltà, compreso quelle ad accesso programmato.